Come aveva già fatto il 25 aprile, anche in vista del 2 giugno, festa della Repubblica, il sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Sciumschi, annuncia che nel suo comune non si festeggerà, anzi sul municipio verrà issato il tricolore a lutto, in aperto contrasto con uno Stato che dissangua gli enti locali. Noi siamo coerenti, lo Stato viola la Costituzione, rapina gli enti locali e quindi i cittadini, noi riteniamo che non ci sia nulla da festeggiare perché non vado a fare la festa con quel boia dello Stato che è rappresentato dal Presidente del Consiglio del Governo, quindi nessuna festa, noi innalzeremo sul pennone la bandiera con due segni neri di listati a lutto perché per noi siamo in allutto. Sciumschi non si preoccupa di mandare nessuna comunicazione in merito al prefetto? No, no, non mando lettere, lo faccio e basta, qua c'è poco da fare festa, ormai siamo a un funerale. Il Sindaco Pasionario va oltre, è pronto a denunciare il Governo alla magistratura. Da tre anni attende che Roma versi alla Regione i contributi per dei lavori eseguiti nelle scuole che servirebbero a mettere in sicurezza altri plessi. Le risorse accumulate in un altro fondo ancora, stavolta regionale, non si possono spendere invece per via del patto di stabilità. A questo punto, siccome per la legge è il Sindaco responsabile della sicurezza degli edifici scolastici, io denuncerò il Governo e il Presidente del Consiglio Renzi alla Procura della Repubblica perché le responsabilità se le prende a chi di dovere, non chi ha già fatto tutto e sta facendo e ha le risorse sue per poter fare gli interventi. E' ora di finirla con questi pagliacci che abbiamo a Roma.